Grazie a tutti Benvenuti al Punto, siamo alla prima trasmissione del 2015 Cogliamo l'occasione anche per farvi gli auguri per questo anno che andiamo a cominciare anche con le nostre trasmissioni televisive dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria I primi due ospiti per questo nuovo anno sono Franco Zaffini dei Fratelli d'Italia, il capogruppo dei Fratelli d'Italia Benvenuto a Gianfranco Chiacchieroni del Partito Democratico Presidente della Seconda Commissione Consiliare Allora, stiamo registrando questa trasmissione, oggi è lunedì 12 gennaio quella passata è stata una settimana che ha visto Parigi, capitale del mondo occidentale ma non solo, dopo l'attacco e l'uccisione dei giornalisti di Charlie Hebdo e di Poliziotti e altri civili da parte di jihadisti una settimana drammatica terminata domenica con l'imponente corteo contro il terrore per la libertà a cui hanno preso parte decine di capi di Stato ad inizio trasmissione mi sembra quindi appropriato chiedervi una vostra riflessione su questi fatti, Zaffini ma sono fatti che indubbiamente interrogano la nostra coscienza ma soprattutto interrogano la nostra capacità di interpretare il mondo che cambia i grandi spostamenti io credo che cercando di uscire da una lettura banale e anche facile per certi versi io credo che in questo momento ci si deve interrogare sugli esiti di questa integrazione che a me sembra più declamata più esibita che reale in verità il diverso, lo straniero il differente da noi ci interroga ci mette di fronte a situazioni di disagio ci mette ci muove le nostre incertezze le nostre insicurezze le nostre paure e questi fatti evidentemente arrivano ad aggravare questa situazione questo se vogliamo dare una lettura obiettiva e seria fuori dal fuori dal politicamente corretto fuori dalla moda fuori dalla da questo senso di da questa esibizione di condivisione che a volte io avverto anche nei commenti e nei giudizi dei più i fatti sono fatti purtroppo di una gravità inaudita stanno dentro un quadro di desolazione di emarginazione di interi pezzi di società per quanto ribadisco questa integrazione venga esibita che poi esplodono in questo tipo di manifestazioni che noi non siamo in grado di controllare che la democrazia non è in grado di controllare tre persone mettono sotto scacco mettono sotto scacco la capitale d'Europa ma mettono sotto scacco soprattutto centinaia di migliaia di uomini dell'ordine che a loro volta magari professano la stessa religione come abbiamo visto quindi sono fatti di una gravità enorme ma che vanno letti fuori da un contesto di banalità e di come si dice di moda e vanno letti invece nella necessità di interpretare il mondo che sta cambiando il mondo che sta cambiando attraverso internet attraverso la caduta delle barriere non solo fisiche ma anche mentali ideologiche psicologiche quindi l'approccio delle comunità con i diversi con i diversi nel senso buono del termine evidentemente quindi questo è quello che a nostro a mio avviso ci deve assolutamente interrogare fuori da una lettura buonista e alla moda che non serve a niente Chiacchieroni come ha seguito questi fatti e qual è la sua riflessione in proposito? mi sembra che ci sia in atto uno scontro forte fra nell'ambito del mondo che è un universo islamico fra queste frange estremiste sempre più isolate e per questo sempre più violente e un mondo che era rappresentato ieri a Parigi nella figura di Abu Mazel il presidente del Mali che sono anch'essi appunto di ispirazione islamica come religione e questi appunto nell'ambito di questo mondo ci sia questo conflitto e è un po' un'azione terroristica su scala globale noi abbiamo vissuto il terrorismo fino anni 70 inizio anni 80 e il terrorismo ha perso quando appunto le brigate erano succise Robito Rossa che era un operaio un delegato che voleva appunto combattere questi fenomeni violenti e appunto il brigate rossa reagirono appunto isolandosi reagirono facendo azioni di violenza nell'ambito di questo mondo dove pensavano di farsi strada così la dinamica del terrorismo anche se è su scala internazionale è in atto appunto uno scontro all'interno del mondo islamico fra un mondo molerato che cerca sempre di più di farsi carico io vorrei ricordare l'appello di Obama al Cairo agli studenti universitari all'università del Cairo appunto quando diceva di prendere in mano ai giovani faceva un appello ai giovani chiedendo di prendere in mano le redini dell'Egitto ma di tutto il mondo appunto di ispirazione islamico araba e di modernizzare di democratizzare queste società il punto è ancora questo e quindi questo processo speriamo che si affermi quanto prima e che appunto queste forze responsabili moderate che poi sono alla guida di tanti paesi a prevalenza musulmana prevalgano su queste forze estremiste questo è il punto che abbiamo di fronte e noi dobbiamo stare con le forze moderate questa è la questione che abbiamo di fronte noi i governi europei le forze democratiche dell'Europa allora continuiamo a parlare di sicurezza lo facciamo parlando della nostra regione la sicurezza in Umbria infiltrazioni malavitose spaccio di sostanze stupefacenti tossicodipendenza delinquenza comune qual è lo stato di salute della nostra regione chiacchieroni ma c'è un impegno straordinario che si è affermato in questi ultimi mesi ed anni che ha portato i suoi frutti e che appunto ha raggiunto obiettivi importanti penso che questo venga percepito dai cittadini e appunto che questi fenomeni sono ormai monitorati e che ci sia anche un elemento di sicurezza maggiore questo è lo stato delle cose che ci sentiamo di dire oggi bisogna continuare non abbassando mai la guardia bisogna continuare con questo impegno e stando vicini anche alle forze dell'ordine a chi sovraintende appunto tutte le problematiche dell'ordine pubblico e incoraggiando anche iniziative che aiutino proprio in questi giorni ci sono stati rimpatri ci sono stati momenti importanti iniziative delle forze dell'ordine e questo l'opinione pubblica lo percepisce e dobbiamo andare avanti spero che ci possiamo considerare appunto possiamo considerare alle spalle i fenomeni anche di rapine di uccisioni di omicidi che ci sono stati anche nel capoluogo di regione a Perugia e possiamo guardare avanti con fiducia rispetto a questa problematica dell'ordine pubblico Zaffini lei spesso ha intervenuto su questo tema come su altri chiaramente però la sicurezza in Umbria un buon lavoro è stato fatto anche dalla commissione antimafia sulle tossicodipendenze la commissione consigliare preseduta da Paolo Brutti è nata insomma una scheda in cui comunque la cosa positiva è che il tessuto sociale dell'Umbria ancora è sano rispetto a a queste infiltrazioni malavitose che cercano di entrare ma trovano degli ostacoli diciamo che cercando di distinguere tra quella che è la sicurezza percepita e quella che è quella che noi realmente ricaviamo dalle statistiche sui reati c'è un percorso positivo come diceva il collega Giacchieroni sulla sicurezza statistica diciamo chiamiamola così cioè sul numero dei reati compiuti sulla qualità di questi reati sta dentro anche un quadro di crisi generalizzata noi abbiamo ricevuto la visita di questo tipo di esponenti dal sud Italia con il terremoto e con la crisi qualcuno ci comincia a salutare insomma comincia ad orientarsi verso altri territori più ricchi o comunque più facili da penetrare nel frattempo l'Umbria ha messo a disposizione i propri anticorpi che ci sono di società sana di società rurale di società che fa riferimento ai valori profondi ora la percezione di sicurezza è altra cosa la percezione sta dentro la percezione di sicurezza sta dentro un necessario governo e controllo dei flussi a mio avviso in questo l'abolizione del reato di immigrazione candestina è stato un danno gravissimo ma non riguarda l'Umbria evidentemente riguarda la normativa nazionale la percezione di sicurezza è fatta anche di piccole cose quello che sta facendo il comune di Perugia nell'area del triangolo delle Bermude di Perugia che è l'area Fontivegge via del Macello inizio di Via Settevalli quell'area lì critica quell'ombelico del mondo di pezzi di città incontrollata io credo che stia dando buoni frutti la gente si sta riappropriando dei propri quartieri in quell'area e quindi io credo che anche a livello di percezione oggi il cambio di amministrazione del capoluogo di regione abbia dato qualche buon frutto e qualche buon risultato non bisogna naturalmente arretrare neanche di un millimetro il problema dello spaccio e della eccessiva disponibilità di sostanza in Umbria e a Perugia in particolar modo è un problema che tuttora persiste e non abbiamo minimamente intaccato allora un tema ad entrambi particolarmente a cuore è indubbiamente la sanità a lei chiacchironi perché fino alla sua elezione del 2010 il consiglio regionale è stato operatore di questo delicato settore Zaffini ha sempre considerato una priorità invece rimarcato in numerosi interventi e interrogazioni il funzionamento della sanità regionale ecco ripartiamo da Zaffini in questo caso come la considera la sanità regionale insomma a livello nazionale è vista con occhio particolarmente attento occhio positivo per i numeri lei? diciamo che il quadro della sanità dell'Umbria facendo un'analisi prettamente tecnica tecnico-finanziaria con riferimento al paragone con le altre regioni pone l'Umbria in una situazione benchmark cioè in una situazione modello in una situazione che fa da parametro per stabilire chi è migliore e chi è peggiore dal nostro punto di vista dal punto di vista di cittadini di questi territori noi avvertiamo una necessità enorme di qualità della sanità regionale la sanità regionale pesa per l'Umbria oltre l'80% del bilancio regionale ed è per questo motivo che come consigliere regionale ho sempre voluto essere in commissione sanità e ho sempre voluto occuparmi soprattutto della sanità semplicemente perché è la prima voce del bilancio della azienda fra virgolette presso la quale i cittadini mi hanno mandato a fare il consigliere insomma quindi per dovere anche di mandato mi sono occupato di sanità sapendo di occuparmi dell'80% del bilancio di questa regione insomma quindi ribadisco abbiamo prestato grande attenzione all'assetto amministrativo e finanziario perdendo di vista ma non solo per colpa della regione in questo chiamo in causa anche l'università che ha le sue importanti responsabilità perdendo pericolosamente di vista i livelli qualitativi della nostra sanità questo è testimoniato dal bilancio import-export per far capire a chi ci ascolta mobilità attiva mobilità passiva dei nostri servizi sanitari che è sempre peggiorato cioè gli Umbri sempre più si rivolgono fuori regione e sempre meno sono i cittadini di altre regioni che si rivolgono all'Umbria ci sono una serie di altri problemi che per esempio ne chiamo uno che reputo assolutamente urgente che è quello della spesa farmaceutica ci sono altri problemi che attanagliano la nostra sanità per cui io credo che da qui in avanti bisogna smetterla di dire che la sanità è il fiore all'occhiello di questa regione perché per dire questo c'è bisogno di un tasso di qualità molto più alto di quello che attualmente può garantire il livello dei servizi sanitari dell'Umbria Giaccheroni ma sì si può sempre fare meglio questo è lo slogan e si deve fare meglio in una fase di crisi come questa il cammino dell'assistenza sanitaria e anche dell'innovazione e delle nuove tecniche non si è fermato questo è un dato importante e quindi la qualità dell'assistenza di sicuro non è arretrata ma anzi c'è un dato che le specializzazioni i punti di eccellenza e questo non vuol dire punti di eccellenza fare solo cose esclusive solo trattare cose molto particolari ma anche trattare in maniera diversa cose di routine si è concentrato e questo spiega anche in parte il fenomeno che dice l'amico Franco si è concentrato nel senso che per esempio in piccoli ospedali Umbri si riescono a fare che ne so la calcolosi del pancreas per via endoscopica senza fare una operazione complicatissima in altri tempi tirarne fuori e uscirne positivamente da questi interventi era complicato oggi si fa con una semplice manovra endoscopica e si fa anche nei piccoli ospedali ci sono delle prestazioni che si sono concentrate in alcuni presidi e sono molto legate alla specializzazione degli operatori questo può portare degli ingressi quindi degli utenti in ingresso rispetto al servizio sanitario regionale può portare anche delle utenze in uscita questo è un po' il fenomeno ma complessivamente appunto noi sappiamo e Franco lo sa perché lui non è solo un attento osservatore laddove può interviene positivamente per quello che mi riguarda ed ha anche un contributo importante e sa che appunto in questi anni il livello è stato curato delle nostre prestazioni e anche appunto non solo delle prestazioni anche la selezione è stata sempre più oculata per quanto riguarda i professionisti bisogna insistere su questo terreno bisogna insistere sul terreno della qualità qualsiasi scelta deve essere orientata alla qualità dell'operatore non dobbiamo mai abbassare la guardia su questa partita perché questa è la partita vera che riguarda appunto la qualità dell'assistenza chiacchierone il turismo commercio urbanistica agricoltura i testi unici in questa legislatura hanno rappresentato il grosso del lavoro di numerose sedute della commissione che lei presiede sì è stato un grande lavoro che vi va a dire l'abbiamo fatto d'intesa con tutta la commissione anche Franco ha partecipato ad alcune sedute alcune iniziative perché si è capito tutto il consiglio ha capito tutti i gruppi che riuscire a migliorare la qualità dell'approccio e anche della vita dei cittadini nei confronti delle leggi nei confronti delle procedure è un servizio che il cui beneficio va a tutti i cittadini ubri per questo c'è stata un'appassionata gara a fare meglio nell'ambito della commissione che ha riguardato tutti i consiglieri maggioranza minoranza opposizione tutti quanti che ha portato ad elaborare prima il testo unico sul commercio poi il turismo l'artigianato e questo ultimo abbiamo approvato lo scorso giovedì sul governo del territorio e domani dopo domani affronteremo la questione del testo di agricoltura che può dare appunto un rapporto fra i cittadini e la pubblica amministrazione molto più fluido molto più efficiente e anche diciamo al passo con i tempi per quanto riguarda la tempistica che questo è una cosa che nella crisi è molto importante si è puntato anche con la vostra condivisione e con la condivisione dell'opposizione una forte azione di semplificazione amministrativa qual è la sua valutazione complessiva in questo caso in questo ambito del lavoro svolto dalla regione ma dunque di per sé i testi unici non tolgono e non aggiungono nulla alla legislazione preesistente sono semplicemente un riordino delle varie leggi in una particolare materia con eliminazione dei doppioni con eliminazione dei contrasti quindi un lavoro di pulizia di riordino e di rilettura ai fini di una più facile interpretazione della norma e applicazione della norma ricordo che le norme regionali sono non sanzionate quindi sono norme in particolare soprattutto amministrative stanno dentro quella fascia che incide particolarmente sulla vita quotidiana dei cittadini ma stranamente vengono percepite sempre come qualcosa di lontano e di indecifrabile i testi unici aiutano in questo a fare chiarezza a mettere ordine e in qualche occasione con qualche escursione anche sul diciamo sul nuovo riescono anche a sistemare alcuni punti oscuri lasciati dalle norme preesistenti quindi io credo che questo lavoro fatto dalla seconda commissione quella del collega Giacchieroni ma anche dalla terza dalla nostra sul testo per esempio della sanità sul testo unico della sanità è stato un lavoro appropriato a chiusura di un quindicennio di mia presenza in consiglio regionale io mi sento di poter affermare che sono decisamente contrario con l'abolizione delle regioni io non credo che il regionalismo abbia un bilancio così particolarmente negativo io credo che il regionalismo deve assolutamente cambiare passo e deve soprattutto cambiare consistenza cioè sono assolutamente favorevole alle macro regioni ma la cancellazione delle regioni con tutta la parte di normativa di secondo livello a cui le regioni in questo momento mettono mano e fanno riferimento sarebbe un problema serissimo perché verrebbe meno quella è un ragionamento molto più profondo e a cui servirebbe molto più spazio evidentemente ma verrebbe meno quella fascia intermedia tra normativa nazionale ed europea e comparto amministrativo locale dell'ente locale e del comune a cui il cittadino risulterebbe assolutamente estraneo e disorientato quindi le regioni devono concentrarsi nel loro ruolo possibilmente aggregarsi in macro regioni e rendere sempre più facile e interpretabile la norma al cittadino comune allora così la domanda la rivolgiamo anche a chiacchieroni per un minuto poi un'altra domanda da farvi siamo come vedete in conclusione di trasmissione Zafini ha toccato anche il tema dell'abolizione o meno delle regioni della costruzione di queste macro regioni ci sono diverse possibilità di aggregazione tra una regione e l'altra ma il suo pensiero su questo Zafini è stato chiarissimo dice no sono positive importanti per l'amministrazione della cosa pubblica lei che pensa? Io penso che con il superamento delle province come ente eletto penso che finché possiamo dobbiamo tenere l'istituzione regione che rappresenta un po' la vicinanza dello Stato nei confronti dei cittadini e questo voglio dire ha garantito per quanto riguarda l'Umbria l'elevamento della quadra della vita ma c'è percezione anche da parte dei cittadini che questa istituzione la regione è un riferimento costante nella vita di tante persone le regioni diciamo come organismi vanno salvate da chi ha attività di impresa da chi ha attività di commercio da chi ha attività appunto nell'ambito del turismo il sistema sanitario tutto il mondo dell'agricoltura così rappresenta un riferimento vicino al cittadino diversamente appunto potrebbe rappresentare un ulteriore distacco fra cittadini istituzionali vi chiedo di rispondere in un minuto e mezzo perché poi ho l'ultima domanda economia lavoro credit crunch fino a qualche anno fa si parlava delle difficoltà di arrivare alla quarta settimana oggi per molte famiglie i problemi si sono allargati e spesso partono addirittura dalla prima o se va bene dalla seconda settimana e sulla politica sempre più spesso viene puntato il dito un riconoscimento di responsabilità che nelle ultime consultazioni elettorali si è tramutato in una preoccupante fuga dalle urne qui si voterà anche in Umbria tra poche settimane chiacchierone ma sì indubbiamente la crisi è un elemento che scompone e determina anche una rottura fra le istituzioni i cittadini perché c'è uno smarrimento la gente non riesce a vedere un futuro e così via però ci sono segnali importanti in queste ultime settimane e mesi ci sono aziende che stanno recuperando competitività ci sono imprese che riescono in questa crisi che hanno appunto avuto una forte selezione l'hanno superata e stanno riorganizzandosi noi dobbiamo stare vicino a tutte queste imprese dobbiamo stare vicino al mondo appunto dell'economia alle famiglie ai cittadini a chi cerca appunto una strada perché torni e trovi appunto una fiducia nelle istituzioni e trovi un ancoraggio una sponda e un interlocutore della propria vita e del proprio destino zaffini essere oggi indubbiamente il nostro essere è un essere problematico è un essere qualitativamente inferiore rispetto a qualche anno fa è un essere è una società liquida basta leggere oggi c'è una bellissima intervista di Bauman sul Corriere della Sera che è assolutamente come si dice apre scenari e orizzonti da troppo tempo la qualità è stata superata dalla quantità nel nostro vivere quotidiano la ricerca della qualità del bello dell'utile è stata di molto superata ormai dalla quantità i due tre telefonini a famiglia le due tre macchine a famiglia il fagocitare continuamente sensazioni beni rapporti relazioni sentimenti tutto questo sta dentro un quadro al quale fa riferimento evidentemente una politica che risponde a questi criteri perché è lo specchio di una società che è cambiata e è cambiata purtroppo molto in povertà in negativo in meno col segno meno noi da troppo tempo viviamo una serie di dinamiche caratterizzate dal segno meno la politica è lo specchio di queste dinamiche allora spogliatevi dal ruolo di consiglieri regionali indossate i vestiti da osservatori e allora adesso vi chiedo parto da Zaffini un voto sulla maggioranza e un voto sull'opposizione Zaffini arricchisco la domanda nel senso il voto sulla maggioranza è 4 da 1 a 10 parliamo scolastico è 4 4 alla maggioranza dentro la maggioranza ci sono elementi e non lo dico perché sta qui ma insomma promuove chiacchieroni non ho la fama di Lecchino e né di Ruffiano né di Lacchè quindi posso permettermelo chiacchieroni è un uomo di sinistra però che ha capito e io in tanti anni di politica hanno trovato veramente pochi come vedete che la ricchezza prima di ridistribuirla bisogna crearla e quindi il buon Gianfranco Giacchieroni riesce a capire che il mondo dell'impresa il mondo dell'azienda che voto gli dà io do un 6 un 6 a Giacchieroni non è che sia il sforzo dentro l'opposizione come dentro la maggioranza c'è qualche 6 qualche 6 e mezzo qualche 7 io personalmente mi do un 10 ovviamente nel senso che ho fatto quello che ho ritenuto di fare in grande libertà e in grande responsabilità che voto dà Zaffini? Zaffini sempre preciso puntuale su tutti i temi è un animatore del dibattito del consiglio regionale è anche una persona che propone positiva quindi di sicuro ha fatto bene il suo lavoro e quindi penso che è un consigliere importante 6 e mezzo 7 è stato più bravo di lei Zaffini allora voto alla maggioranza e voto all'opposizione chiacchieroni in pochi secondi un 7 per 1 vale bene quindi anche all'opposizione e alla maggioranza ha svolto un grande ruolo io lo posso testimoniare nell'ambito del grande lavoro abbiamo fatto i testi unici abbiamo approvato insieme abbiamo lavorato insieme i contributi sono venuti da tutti bene noi siamo alla fine mi sarebbe piaciuto fare questa domanda prima così parla prendiamoci 10 secondi ci tagliano poi prendiamoci 10 secondi ci tagliano poi un conto è parlo dell'opposizione un conto è l'opposizione declamata e cioè quella che puntualizza i fatti e li denuncia e quella abbiamo fatto un buon lavoro un conto è l'opposizione che crea le condizioni per l'alternanza che è quella che serve alla democrazia su quella non abbiamo combinato niente grazie per essere stati con noi a Franco Zaffini capogruppo dei fratelli d'Italia e grazie a Gianfranco Chiacchironi del Partito Democratico presidente della seconda commissione grazie anche a voi per averci seguito l'appuntamento la prossima settimana arrivederci